Allora eccomi qua con un altro video che ovviamente ho voluto fare e vorrei riregistrare questa è la mia volta che registro quindi ci riprovo. Allora questo è un video appunto sui prodotti finiti beauty e credo anche lo che mangi riccio perché sinceramente non mi ricordo più cosa ho messo dentro la bustina della Douglas Douglas che Dio si voglia. Si vedete Douglas perché non è un acquisto ma era un acquisto di prodotti che avevo già acquistato tempo fa quindi non c'entra niente ma ci sono dentro prodotti di ogni tipo. E nulla come volevo dirvi da prima se volete vedere questi video di prodotti finiti beauty e mangerecci o quel che l'è, vi basta attendere un attimo che vado in pausa e torno subito. Buona visione. Eccomi allora prodotti finiti beauty e mangerecci quindi andiamo subito con il mangereccio. Come primo prodotto ho terminato anzi quasi che sto per terminare santa lucia mozzarella vedete qua molto buona mi piace davvero tanto e non so cosa che mi sta appoggiando la prima mentre sono nella mia postazione trucco ma vabbè poi tonno insalata di tonno anzi tonno e pasta perché l'insalata me l'ho mangiata io oggi a pranzo ma vabbè questo è il nostro nostro omotonno all'olio d'oliva molto buono mi piace tutto un casino me l'ho fatto con l'insalata di riso un po con la pasta con la pasta appunto al suo dipende con qualsiasi pietanza qualsiasi no dipende dalla pietanza che voi volete farvi questo tonno ci sta benissimo molto buono poi dipende dal tipo di tonno che desiderate poi altro prodotto mangericcio maionese delizie dal sole eccolo qua molto buono mi piaciuto davvero tanto squisito e anche col prosciutto è buono il panino al prosciutto maionese top questo è da 150 milo il prodotto vedete già buono poi come altri prodotti per la casa anzi ce n'è uno singolo dexal freschezza di primavera e profumo di gesolmino questo qua ammorbidente ma non è male dai prende un po al naso ma è molto buono mi piace dai non è male per niente questo è allora ammorbidente 750 mila di prodotto vedete già molto buono poi 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 anzi non mi casca tutto come altro beauty che poi è un generale ovviamente non può mai mancare durban sal alito fresco collutturio no collutturio dove stanno come scritto menta polare extra freschezza prolungata previene le carie e il tartare e la placca e la placca aiutano sono più leggere vabbè con mentolo buono 500 mila di prodotto con un pao vi è di 12 mesi si ragazze ne vedete in goccia ma alla fine mi è piaciuto lo stesso non importa se non ho terminato tutto tutto ma va bene lo stesso così mi è piaciuto e pulisce bene la bocca la rinfresca la mi è già bene ci è piaciuto perché l'ho provato serio con mia nonna si esatto mi stava cadendo tutto qui come penultimo prodotto e ho terminato il vital che so che piace a tutti voi di youtube video bagno doccia olio di argan biologico body wash all'argan oil ragazze ha una freschezza una profumazione che non vi dico paradisi non dico che quella al cocco non sia male perché buona quella al cocco però mi piace di più anche questo non è male per niente questo della vital e ce n'è da un paio di 12 mesi con 500 ml di prodotto lo sto leggendo qua già ecco e non le ragazze questo era tutto la busta è vuota non c'è altro niente ve lo posso confermare e basta se vi è piaciuto il video non vi resta aspettate un attimo nulla vi dicevo se vi è piaciuto il video non vi resta altro che mettere un bel like che ti sopporto perché altrimenti non non so come crescere qua su youtube ma fa niente meglio i pochi ma buoni come suol dire e se vi piace questo questo canale youtube non vi resta che iscrivervi e attivare la campanella per ricevere i nuovi video aggiornamento sul mio canale youtube io vi saluto mi congetto da questo video e ci vediamo con un prossimo appuntamento youtube piano qua su youtube ciao a presto e alla prossima ciao ciao